Interrol è l'azienda leader mondiale per la produzione di prodotti e soluzioni per l'intralogistica. Fondata nel 1959 in Germania, Verme Schirken, noi qui in Ticino siamo Interrol SA, siamo parte del gruppo Interrol e rappresentiamo il centro di eccellenza per la produzione di tutti i prodotti in tecnopolimero. I nostri prodotti vengono quindi inseriti negli articoli per l'intralogistica, ad esempio nell'80% dei nastri trasportatori di tutti gli aeroporti mondiali e nel 60% delle casse dei supermercati. Siamo specializzati anche nel design e nella produzione di stampi per iniezione. Abbiamo 30 macchine di iniezione e siamo specializzati nel design e nella produzione di tutti i tipi di polimeri e tecnopolimeri.